E la Fucina è il modo migliore per decidere il candidato del centro-destra alle prossime regionali e soprattutto per fissare le regole della scelta, tanto più che in passato ha portato bene, un esempio su tutti, l'elezione di Di Piazza. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Scocci Marro, è deluso dalla smentita delle notizie di stampa sul via libera alle primarie da parte di Forza Italia. Mi dispiace questa smentita, io speravo invece in questa apertura che avevo letto sul giornale di poter fare queste primarie. Le primarie poi per noi non sono un totem assoluto, possiamo trovare anche altri sistemi per trovare il candidato presidente della regione, però un sistema dobbiamo trovarlo, non è che un partito può imporre agli altri il proprio candidato. Se un partito è forte perché deve temere le primarie, basta farle bene. Il partito dei Fratelli d'Italia che andrà all'Assemblea regionale in maggio a Gorizia non ci sta a farsi calare dall'alto un candidato dal partito maggioritario della coalizione. La mia proposta, la proposta dei Fratelli d'Italia è quella di riaprire la fucina ai tre segretari regionali del partito, di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord, trovare un sistema affinché siano cose fatte bene, seriamente, non si portano a votare i cinesi e i morti, facciamo le cose veramente bene e poi dal basso c'è qualcosa che si chiama democrazia nata 2.500 anni fa in Grecia che può portare a condividere insieme il candidato. Ci si confonerà sui programmi, noi riteniamo che quelli dei Fratelli d'Italia siano quelli più vicini al popolo, alla gente. Se poi non si potrà condividere quegli altri reati, troveremo un sistema diverso, ma certamente non è che un partito viene e dall'alto ci cala un candidato, questo non si può accettare certamente.